Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, code tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la variante di Valico-Bacchieraia. Sulla statale 2 via Cassia è chiuso fino a domani il tratto, in entrambe le direzioni tra i chilometri 144.800 e 152.500 a Radicofani, in provincia di Siena. Spostandoci sulla FIPL, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!